Musica Gravissimo incidente stradale ieri sulla statale 100 Tarantobari all'altezza di Mottola. Quattro i morti, tre erano militari dell'esercito. Potrebbe essere la seduta delle prossime ore quella del ritorno in consiglio regionale per il trattamento di fine mandato. Il fronte del no a partire dalla CGL è pronto alle barricate. Un'autentica vergogna che segna la definitiva frattura tra il mondo della politica e la società civile, dicono. L'Università degli Studi della Basilicata ha segnato la laurea magistrale onoris causa in storie e civiltà europee alla senatrice a vita Liliana Segre. La situazione interregionale di Antenna Sud. La cronaca quest'oggi in primo piano in un gravissimo incidente stradale ieri sulla strada statale 100 Tarantobari all'altezza di Mottola. Quattro i morti, tre erano militari dell'esercito italiano. Ancora sangue sulle strade della Tarantino, ennesima tragedia sulla statale 100 Tarantobari. E di quattro morti e tre feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto a circa 500 metri dallo svincolo per Mottola nella serata di lunedì 27. Due auto, una Fiat multiple e un minivan si sono scontrate all'altezza di una galleria. Tra le vittime ci sono tre militari dell'esercito, i graduati aiutanti Cosimo Loia, 50 anni, di Montemesola, Alberto Battafarano, 42 anni, di Taranto e Domenico Ruggero, 51 anni, di Statte, che sono morti sul colpo e viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima, annunziata di Taranto. Lo scontro sarebbe stato frontale. I militari erano appartenenti alla Brigata Pinerolo VII Bersaglieri, distanza d'Altamura, ed erano a bordo dell'auto dirigendosi verso il capoluogo ionico. L'altra vittima è la conducente del minivan, un uomo di 60 anni, Francesco Clemente di Bari, che viaggiava in direzione opposta, ferito all'unico passeggero. Sulla posto sono intervenute ambulanze della 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'ANAS. I soccorritori si sono trovati davanti ad una scena terribile. Alcuni corpi erano stati sbalzati sull'asfalto, altri erano incastrati tra le lamiere. Cordoglio per la scomparsa dei militari è stato espresso dal ministro della difesa Guido Crosetto e dal capo di Stato maggiore dell'esercito Pietro Serino. Un altro incidente si è poi verificato a qualche chilometro di distanza, intorno alle 5.15 della mattina di martedì, all'altezza di San Basilio. Si sono scontrati un tiro in un furgone. Il conducente dell'ultimo mezzo è stato trasportato al Santissima Annunziata in codice rosso. Come abbiamo ascoltato, 4 morti e 2 feriti. Questo il bilancio del tragico incidente sulla strada statale 100, appunto nelle vicinanze dello svincolo per Mottola. 3 sono le vittime della provincia di Taranto, tutti bersaglieri in servizio nel 7 reggimento ad Altamura. Allora, ecco chi erano il cordoglio dei sindaci. Cosimo Loia di Montemesola, 50 anni, Domenico Ruggero di Statte, 51 anni, Alberto Battafarano, 42 anni di Taranto. Sono questi i nomi dei tre bersaglieri in servizio nel 7 reggimento ad Altamura morti sul colpo ieri sera, a seguito del tragico scontro frontale sulla strada statale 100, nelle vicinanze dello svincolo per Mottola. Tre province del Tarantino in lutto e intere comunità sconvolte per il drammatico incidente. Non abbiamo parole per esprimere il nostro dolore, ha fatto sapere Ignazio Punzi, sindaco di Montemesola, città di Mimmo Aloia, molto conosciuta in paese anche grazie all'attività commerciale in pieno centro storico della moglie. Il militare lascia anche due figli adolescenti. Per Domenico Ruggero di Statte, anche il sindaco Franco Andrioli si stringe ai familiari. Sì, sì, conoscevo benissimo, conoscevo la famiglia, conoscevo i genitori, conosco i genitori. Tutta l'amministrazione è vicina, è vicina alla famiglia. Moltissimi messaggi di vicinanza sul social Facebook, da amici, conoscenti, concittadini. Profondo cordoglio alle famiglie dei graduati aiutanti anche dal sindaco di Taranto Melucci, dal capo di stato maggiore dell'esercito Pietro Serino e dal ministro della difesa Guido Corsetto. Nell'incidente ha perso la vita anche l'autista Francesco Clemente, il 68enne di Bari, alla guida di un minivan che si è scontrato frontalmente con l'auto dei militari. Voglio dirti ciao, zio, guardaci tutti. Dalla su il toccante ultimo messaggio che il nipote della vittima barese scrive sui social. Oltre alle quattro vittime, due militari sono stati condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, uno dei due è ricoverato in reanimazione in condizioni critiche. Cambiamo argomento. Potrebbe essere la seduta delle prossime ore, quella del ritorno in Consiglio regionale per il trattamento di fine mandato. Il fronte del no a partire dalla CGL è pronto alle barricate. Un'autentica vergogna che segna la definitiva frattura di icono tra il mondo della politica e la società civile. Consideriamo che la politica debba mettere tra le priorità la condizione sociale dei territori, delle persone, dei cittadini che arrancano e hanno sempre più difficoltà a vivere e ad arrivare a fine mese. Oggi le priorità per la Puglia soprattutto sono tante, a partire dalla sanità, a partire dalle tante crisi industriali e dare risposte anche ai temi dello sviluppo economico. Pensare invece che la priorità politica di questo Consiglio regionale, quella di tentare di approvare nuovamente il TFM, il trattamento di fine mandato, è per noi inaccettabile. Sul palazzo del Consiglio regionale si staglia l'ombra di un nuovo muro contro muro sul trattamento di fine mandato per i consiglieri. Il braccio di ferro va avanti da luglio. Da una parte è un pezzo di maggioranza, eppure di opposizione. Dall'altra oltre 60 sigle tra CGL, Giusta Causa, Confindustria, Libera e Lega Coop. Soltanto a citarne alcune, il provvedimento, secondo la proposta che ha ottenuto mesi fa a parere finanziario favorevole della prima commissione e discorosso della settima, produrrebbe i suoi effetti dal 2013 e non dal momento del via libera in aula. Tradotto vuol dire circa 35 mila euro per ogni titolare di scranno e 4,3 milioni di euro di copertura necessari, almeno stando all'ultima stesura. La novità è che potrebbe essere la seduta in agenda nelle prossime ore, quella nella quale vede rispuntare la misura. E così il fronte del no torna sulle barricate, un'autentica vergogna che segna la definitiva frattura tra il mondo della politica e la società civile. È una vergogna che si parli ancora di trattamento di fine mandato per delle persone che prendono dei consiglieri regionali che guadagnano più di 11 mila euro al mese. Andatelo a dire ai professori della scuola, ai poliziotti, ai magistrati, ai medici. Ed allora per gli aggiornamenti andiamo direttamente nella sede dell'Argione Puglia in diretta con il collega Antonio Bucci. Antonio, buon pomeriggio. Eccoci, buon pomeriggio Valentina. Lo vedi l'ambiente intorno a me è sgombro perché il Consiglio non solo non è ancora iniziato, è anche stato posticipato alle 14.30. Lo vedi l'ingresso, questo è quello dal quale entrano i consiglieri, è completamente vuoto. Però ti posso dare un'indiscrezione, nel senso che arrivavamo a questa giornata, tra poco dovrebbe arrivare il capogruppo del PD, Filippo Carraccio, al mio fianco per confermarcelo. Adesso i vertici, i riunioni informali, prima del Consiglio lo stanno trattenendo, però ti posso dare questa indiscrezione. Arrivavamo a questa giornata col muro contro muro. Da una parte la CGL, le 60 sigle firmatari dell'appello che abbiamo appena ascoltato, dall'altra un pezzo di maggioranza, un pezzo importante di maggioranza, PD, civici, c'era il nodo del voto favorevole o meno del Movimento 5 Stelle. La novità è che oggi non si dovrebbe votare il trattamento di fine mandato, non dovrebbe essere neppure discusso. Dovremmo partire dall'assestamento di bilancio, che è passato già nelle commissioni e il cui 70% è dedicato al comparto sanitario. Ma non dovremmo arrivare alla discussione del nodo sul TFM, anche perché l'orientamento della maggioranza è esattamente quello stigmatizzato da Michele Emiliano sei mesi fa, esattamente in occasione dell'ultimo braccio di ferro, quando all'esterno di questo palazzo erano previsti i picchetti del cosiddetto fronte del no. E la linea è stata spiegatelo, spiegatelo per bene, fate in modo che le ragioni di questo provvedimento siano chiare a tutti i pugliesi, non è questo il momento, si disse sei mesi fa. Se il momento sia invece quello della prossima finestra dell'approvazione del bilancio è tutto da vedere. E dunque vorrebbe dire arrivare alla finestra di fine dicembre con un provvedimento di questo tipo. Al momento, e dunque a quello che ci è dato sapere a un'ora dall'inizio del Consiglio, non è questo il Consiglio nel quale si vota il TFM e anche questa è una risposta politica, almeno per ora. Una risposta politica, almeno per ora. Fermo restando che, non appena dovessi arrivare al capogruppo, io ti richiedo la linea. Grazie, grazie Antonio. Noi nel frattempo andiamo avanti con il nostro OTG. Una risposta politica, almeno per ora, dice il collega Antonio Bucci. Restiamo in Regione perché lo ha preannunciato, arriva all'UK delle commissioni su bilancio e rendi conto. La Commissione bilancio del Consiglio regionale pugliese ha approvato il disegno di legge contenente l'assestamento e la variazione al bilancio di previsione per esercizio finanziario 2023. Con la variazione si vanno a coprire 37 milioni di euro di costi sanitari. 3 milioni sono destinati per le spese di gestione di aeroporti di Puglia. Finanziate risorse aggiuntive anche per i consorsi di bonifica per 4 milioni di euro, di cui 3 milioni per il concorso alle spese di funzionamento degli stessi enti commissariati e 2 milioni per il parziale riconoscimento al consorso di bonifica della Capitanata. Previsti 3 milioni di euro come concorso al finanziamento per la realizzazione di uffici ma anche archivi presso la sede istituzionale della Regione Puglia. È stata assegnata una dotazione finanziaria di 4 milioni e 250 mila euro per l'istituzione del fondo per il supporto e finanziamento di progetti relativi al terzo settore. A maggioranza e con il voto contrario dell'opposizione è stato approvato anche il rendiconto generale della Regione Puglia per esercizio finanziario 2022 e il relativo rendiconto consolidato. Parere favorevole a maggioranza e con il voto contrario dell'opposizione è stato espresso anche sulla deliberazione della Giunta regionale relativa al bilancio consolidato 2022 della Regione Puglia. Ed intanto continua il tour della legalità organizzato dalla Prefettura di Foggia che oggi ha fatto tappa a Manfredonia per incontrare gli studenti delle scuole superiori e dialogare con loro sui temi di dolorosa attualità legati alla violenza sulle donne. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi. Ci troviamo presso il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia per un nuovo appuntamento con il tour della legalità voluto e organizzato dalla Prefettura di Foggia. Oggi si continua a parlare di violenza contro le donne e il modo ancora m'offende richiamando il canto quinto dell'inferno dantesco per raccontare l'appuntamento di oggi in cui sono convolti tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Manfredonia. Abbiamo ascoltato le voci dei principali protagonisti della giornata ma vi proponiamo le dichiarazioni del questore di Foggia, il dottore Ferdinando Rossi che ci ha raccontato dell'ultimo episodio di violenza verificatosi proprio nelle scorse ore a Foggia. Sentiamo le sue dichiarazioni. L'ultimo intervento risale ieri sera alle 23.20 a Foggia la volante è stata chiamata perché una donna è stata cacciata di casa dal marito. Purtroppo questi interventi che sono interventi delicatissimi in cui la professionalità del nostro personale deve emergere sempre sono frequentissimi. Io ne conto almeno tre al giorno. È chiaro, non sempre ci sono azioni di violenza estrema ma posso assolutamente dire che l'impegno della Polizia di Stato nel soccorso pubblico della Polizia di Stato su questa tematica è purtroppo frequentissima. Clamorosa confessione in aula di Giuseppe Ferrarese imputato per l'omicidio di Giampiero Carbone il 19enne ucciso sotto la sua abitazione al Rione Perrino a Brindisi. Dopo anni di silenzio e mezza verità arriva in aula la confessione dell'imputato per l'omicidio premeditato di Giampiero Carbone il 19enne ucciso sotto la sua abitazione al Rione Perrino il 19 settembre del 2019. Giuseppe Ferrarese si era sempre dichiarato innocente era stato arrestato dalla squadra mobile di Brindisi nell'inchiesta coordinata dalla DDA di Lecce. La svolta arrivò grazie alle dichiarazioni di una donna che si rifiutò di fornirgli un falso alibi e che ora vive sotto la protezione della giustizia in mattinata alla decisione di confessare il delitto. Le dichiarazioni spontanee sono state rese dal 27enne in videoconferenza. Sono stato io, ha rivelato Ferrarese, a sparare a Giampiero Carbone e a causare la sua morte. I dettagli presumibilmente emergeranno nel corso della prossima udienza. Il processo è in corso in Corte d'Assise presso il Tribunale di Brindisi. E dopo il Consiglio Comunale infuocato dello scorso 27 novembre i consiglieri di opposizione al Comune di Potenza hanno convocato una conferenza stampa per chiarire le ragioni della mancata approvazione di una importante variazione di bilancio riguardante anche fondi per le famiglie con ragazzi diversamente abili. Buonasera a tutti, si conclude qui il Consiglio Comunale del 27 novembre. Però non chiudiamo la diretta, per favore lo dico sopra, di non chiudere la diretta. La seduta è chiusa. Vorrei condividere con voi, rimasti in aula, il mio rammarico e la pochezza, la miseria umana di chi antepone la squallida, becera, triste, misera battaglia politica agli interessi della comunità. Non sono andate giù i consiglieri di minoranza del Comune di Potenza in modi e le parole del Sindaco Mario Guarente durante il Consiglio Comunale del 27 novembre scorso al termine del quale, chiedendo di non chiudere la diretta streaming della Sise, il primo cittadino ha accusato l'opposizione di aver lasciato l'aula e di aver quindi bloccato una importante variazione di bilancio che riguardava, tra l'altro, il servizio all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione rivolta alle famiglie con ragazzi disabili. È sotto gli occhi di tutti che il Sindaco Guarente non ha i numeri per governare. Lui propone con l'Aggiunta Municipale una variazione, una mega variazione di bilancio, la quinta, di oltre 4 milioni di euro. Dovrebbe avere una maggioranza che il popolo gli ha dato, gli elettori gli hanno dato, ma che man mano che si va avanti in questa consigliatura non si comprende perché. Si arriva in consiglio e la maggioranza non è maggioranza. C'è da fare un chiarimento. Il Sindaco, nelle dichiarazioni di ieri, dice che la mancata approvazione della quinta variazione di bilancio è un atto contro la disabilità. È un atto a favore della disabilità. Chiariamo un punto. Quella manovra toglie 360 mila euro dalla disabilità per l'anno 2023 e li mette nel 2024. Noi invece avevamo chiesto che quei soldi rimanessero nel 2023 perché ad oggi nelle nostre scuole non è ancora garantito a pieno il servizio dell'assistenza specialistica ai bambini con disabilità. Tensione in consiglio comunale Brindisi. Il gruppo di Forza Italia fa saltare l'assise in prima battuta. Un messaggio politico al Sindaco attaccano le opposizioni. Dalla maggioranza provano a giustificarsi. Abbiamo tardato a causa di una riunione, ma in aula è bagarre. Consigliere, cosa è successo questa mattina? Assolutissimamente nulla. Abbiamo fatto soltanto una riunione all'interno del partito. Si è prodotto sicuramente più del previsto e adesso siamo qui presenti a fare il nostro dovere. L'imbarazzo è evidente anche se si prova goffamente a mascherarlo. Il consiglio comunale di Brindisi salta in prima battuta per mancanza del numero legale. Assente l'intero gruppo di Forza Italia. La maggioranza prova a recuperare scattano le telefonate e alle 10.33 possono iniziare finalmente i lavori. È un segnale politico che Forza Italia consegna al Sindaco attaccano dalle opposizioni. Ci siamo resi conto che alla maggioranza mancava un pezzo importante che era tutto il gruppo di Forza Italia. Naturalmente abbiamo chiesto la verifica del numero legale ed è emerso che c'è una rottura interna della maggioranza. Naturalmente c'è chi dice che Forza Italia ha mal digerito la nomina del componente del cittadino del STP. Il capogruppo di Forza Italia è Cosimo, Elmore, spinge le accuse e assicura. Non era voluta l'assenza? Assolutissimamente no. Nessun imbarazzo per il caso Mevole o il caso STP, le nomine? No, no, no. Non ci sono alcun tipo di imbarazzo, assolutissimamente no. Tant'è che siamo presenti al Consiglio comunale. La maggioranza è compatta? Sempre di più. Imbarazzi all'interno della maggioranza anche per le recenti dichiarazioni del Consigliere comunale Cesare Mevole sul caso Cechetin. Il Consigliere prova a giustificarsi così. Io chiarirò meglio per iscritto il mio pensiero con il carattere da chiedere scusa che eventualmente si è sentito offeso. Alla fine i lavori proseguiranno regolarmente, ma resta la frattura e adesso si apre l'analisi politica. E da Taranto Edison Next spiega i vantaggi della decarbonizzazione. Un risparmio di energia di circa 115 gigawattora con una riduzione di spesa energetica di 15 milioni di euro e il risultato che si potrebbe ottenere in provincia di Taranto con interventi di decarbonizzazione applicabili a edifici, pubbliche illuminazione e mobilità, evitando emissioni pari a 95.000 tonnellate di CO2. I dati sono stati presentati alla Camera di Commercio di Taranto durante la terza tappa della roadshow di Edison Next, società del gruppo Edison che si occupa di transizione energetica. La ricerca effettuata in collaborazione con il Politecnico di Milano indica le opportunità che deriverebbero dalla decarbonizzazione anche per la grande industria, cifre e soluzioni illustrate ai principali soggetti istituzionali dei territori di Taranto e Brindisi. Vogliamo metterci a disposizione della Puglia per aiutare in questo processo di decarbonizzazione sia per quanto riguarda il tessuto industriale sia per quanto riguarda invece il pubblico. Per quanto riguarda invece il tessuto industriale stiamo cercando di sviluppare la Green Hydrogen Valley della Puglia per mettere nelle condizioni il tessuto industriale pugliese e anche tarantino di compiere la transizione energetica. Io credo che c'è tanta qualità della vita dentro la decarbonizzazione e ci sono tante opportunità anche di lavoro, tante opportunità legate agli investimenti. Dobbiamo recuperare un gap che abbiamo perso negli anni scorsi. Io penso che siamo sulla strada giusta e naturalmente la condivisione sarà vincente. È un processo importante dal quale non si può sfuggire. Oltretutto siamo su territori, quello di Taranto, ma anche a pochi chilometri di qua, quello di Brindisi, che devono sicuramente affrontare i processi di decarbonizzazione molto delicati. Massimo Ferrarese incassa il sì della Federazione Nuoto sulla realizzazione delle piscine scoperte a Taranto finite al centro delle polemiche. La soluzione c'è, assicura Massimo Ferrarese. Il nostro obiettivo è quello di realizzare le piscine per marzo del 2026, perché poi ci vogliono, dobbiamo fare i collaudi, però dobbiamo farci dare, ma sicuramente c'è la disponibilità da parte loro. Non basta, perché adesso dobbiamo sentire il CONI. Questa volta nel Mirino sono finite le due piscine da 50 per 25 metri, che dovrebbero essere costruite appunto in città per ospitare gli atleti. 37 milioni previsti per la realizzazione dello stadio del nuoto, sul quale però dovrà arrivare il parere favorevole del CONI, del Comitato Internazionale, ma soprattutto l'ok definitivo del Governo. Sulla questione pesa però il fattore tempo, 21 mesi. La FIN ci ha dato la disponibilità purché si realizzi l'impianto, perché chiaramente tutti tengono a questo impianto, un impianto che sarebbe il Fiore Locchiello in Italia nel mezzogiorno sarebbe il numero uno, il primo, così grande, così importante, e quindi la Federazione Italiana Nuoto ci terrebbe a questa realizzazione. Quindi il primo step sarebbe la realizzazione delle vasche, quindi con queste vasche che potremmo utilizzare le vasche appunto per disputare le gare all'aperto, al limite con una denso struttura, poi la copertura, è una copertura in legno e quindi ci sono delle aziende soprattutto del nord, Trentino, Veneto che realizzano queste coperture e poi il resto, la giusura e la climatizzazione. Nelle prossime ore Ferrarese incontrerà anche i vertici del CONI e il 9 dicembre il Comitato Internazionale a Tirana. L'Università degli Studi della Basilicata ha assegnato la laurea magistrale onoris causa in Storia e Civiltà Europea alla senatrice a vita Liliana Segre. Conferiamo a Liliana Segre, nata a Milano il giorno 10 settembre 1930, la laurea magistrale onoris causa in Storia e Civiltà Europea per essersi coerentemente mostrata portatrice di un grande ideale educativo che si appella alla nostra parte migliore, quella della solidarietà, della giustizia, della pace e della libertà. L'Unibas ha assegnato la laurea magistrale onoris causa in Storia e Civiltà Europea alla senatrice a vita Liliana Segre. Un grande onore per tutta la comunità accademica e un momento che il nostro giovane Ateneo ricorderà a lungo. Ha commentato il magnifico rettore che ha consegnato la pergamena a Milano in collegamento con la sede dell'Università di Potenza. Sentiamo uno stralcio del discorso di ringraziamento della senatrice. Sento in questo momento di non essere vissuta in vano. Ringrazio sentitamente per l'onore che l'Università di Basilicata mi fa con la concessione della laurea onoris causa in Storia e Civiltà Europee. Il mio pensiero più sentito va alle ragazze e ai ragazzi dell'Università di Basilicata di Basilicata quelli che da sempre io chiamo i miei nipoti ideali e a cui è stato dedicato il mio ormai più che decennale direi trentennale impegno testimoniale. Andiamo torniamo anzi in collegamento da Bari con la regione vedo Antonio Bucci accanto se non mi confondo mi sembra il capogruppo Filippo Caracciolo Antonio a te Esattamente ve l'avevo promesso che ci sarebbe stato il capogruppo a confermarci l'ordine dei lavori di oggi perché alla fine di questo muro contro muro a mezzo stampo possiamo dire che oggi il TFM non ha proteinaula non è questo il giorno della discussione oggi abbiamo l'assestamento di bilancio che sono importanti e fondamentali propedevoli appunto al bilancio perché abbiamo fatto notevoli sacrifici per garantire alla sanità pugliese nessun taglio ai servizi innanzitutto perché parliamo di questioni che riguardano la salute dei cittadini pugliesi e quindi per noi è estremamente importante evitare tagli e questo l'abbiamo fatto garantendo all'interno dell'assestamento una serie di variazioni di bilancio tali da non compromettere la sanità in Puglia nonostante i tagli che il governo ha fatto sui fondi destinati alla sanità per le regioni per tutti gli altri argomenti ci saranno approfondimenti e quindi si declinerà ad altre date prima finestra utile quella del bilancio di fine anno ma fin lì tutto può accadere abbiamo novità sulle commissioni c'è l'accordo sulle commissioni però ci sono dei tempi che tu conosci bene siamo in 42 io sono in chiusura poi per dare spazio ai TG provinciali se riesci proprio un'ultimissima battuta altrimenti sono dispiaciuta ma devo riprendere la linea per salutare no no so che il capoducco è breve e compendioso però se c'è l'accordo sulle commissioni si si faranno all'anno nuovo dopo la pausa estiva dopo la pausa chiedo scusa la tradizia rinnovo delle commissioni all'anno nuovo grazie Valentina grazie a te Antonio grazie a voi buon lavoro buon proseguimento il nostro TG interregionale termina qui a seguire l'informazione su Bari Bat e Foggia grazie a tutti voi rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti